Arriva a basso. La vedo. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui! Woo! You! Instagram! È il primo modulo della storia a tornare da Marte. Stiamo osservando la prima incontrovertibile prova della vita oltre la Terra. Guardate quanto cresce in fretta. È bellissimo. Ogni singola cellula è una cellula sia muscolare che nervosa. Tutto muscoli, tutto cervello. Sei sicuro che non sia morto? Cosa speri che succeda esattamente? È un voltaggio molto basso. Serve solo a stimolarlo. Svegliati. Che succede? Ha rotto la bacchetta. Adesso cerco di tirare fuori la mano. Ok, ok. Ok, ok. Stronzetto. Quanto è forte la presa? È come una stretta di mano decisa. Il cuore ha 169 battiti. Si è infilato tra le dita. Avrei un suggerimento. Posso entrare e portarlo via in un posto dove ha seguito? No, non ci vai da dentro. Non ci vai perché dobbiamo riservare la quarantena. Stop! No, ce la faccio, tranquilli, ce la faccio ora. Puoi provare a distrarlo? Sì, sì. Vediamo se lo tiro con la bacchetta. Forza. Forza. Per favore. Ha perso interesse. Sto stringendo la mano. Dio. You. 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 Hey, you. Vado dentro. No, non ci vai. Non ci vai. Non ci potete andare. Vai dentro. Aiuto. Che vuoi fare? C'è un uomo lì dentro. Cosa è questo? Chi deve entrare? Ma che cazzo stiamo aspettando? Ti prego, non fare così. No, 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 no. No, 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 no.